Benvenuti a tutti, siamo alla seconda edizione della Maratonina D'Amiata Trail, l'evento che è appunto la prima Maratonina D'Amiata, il secondo anno che facciamo questo tipo di attività e dopo il successo dell'anno scorso, appunto ecco, anche quest'anno verrà riproposta l'attività e appunto ci sarà la possibilità di rimanere sia a pranzo sia la sera e tra parentesi la mattina ci sarà un convegno appunto sul Natural Running e sul futuro del trail, questo nuovo praticamente sport diciamo ecco che si sta imponendo insomma il futuro appunto dell'atletica leggera e del podismo. Il convegno inizierà alle undici e mezzo, parteciperanno diversi soggetti organizzatori di tutto il territorio nazionale e appunto sarà presente Paolo Giava Agilio, poi ci sarà il Samuel che appunto organizza la Maratona del Barco e l'Ecomaratona di Solidarietà Carmignano e ecco sarà un evento che appunto vedrà anche presente il Tuscany Crossing che è appunto un'attività, un circuito diciamo che fa parte diverse associazioni toscane che organizzano i trail. Il convegno perché praticamente vogliamo parlare un po' delle problematiche e anche dello sviluppo di questo sport cioè oggi nella crisi diciamo di molti settori sportivi abbiamo questo boom di partecipazione di tutti gli sport all'aria aperta noi pensiamo che non è soltanto una tendenza ma è un risultato di tanto impegno, di tante società e soprattutto la voglia delle persone di mettersi in gioco e di riguadagnare la salute fisica ecco e grazie anche a una nuova diciamo politica anche salutista insomma ecco che viene proposta da media questo insomma ci fa molto piacere, più che altro pensiamo che lo sport debba diventare un mezzo di diciamo un mezzo non soltanto di socializzazione ma anche una possibilità insomma ecco per guarire tra virgolette il fisico e la mente ecco questa è una cosa molto importante. Il percorso era nato appunto lo scorso anno, sono due giri di un percorso abbastanza vario ma appunto ecco con molta biodiversità, è un percorso veloce non aspettate che la maratonina da miato è un diciamo un percorso con troppe asperità insomma tra i vari trail è abbastanza veloce insomma ecco quindi è un percorso veloce, tranquillo è adatto anche a uno stradista è un diciamo un bosco molto a terra, molto morbido, molto poco sassoso solamente in un tratto insomma che c'è un trail un pochino più duro ma si tratta di un centinaio di metri insomma ecco non è un trail difficile. Tra l'altro questo trail sarà il secondo in quest'anno che organizzeremo con la nostra associazione e organizzazione AICS perché appunto il 15 di novembre andrà anche la Val di Mersi Ultramarathon che sarà la penultima prova del Grand Prix di Ultramaratona della Utah. Avremo un percorso anche lì da 54 km, un percorso da 18, un percorso da 10 km. A breve appunto nascerà anche il sito internet e guardiamo insomma ecco di lanciare l'iniziativa perché vediamo sempre più partecipazione e a noi insomma ci fa piacere proprio ecco anche i vari gemellaggi con le varie società e enti che insomma mandano avanti insomma l'iniziativa. Ora verrà la Proloco di Pian Castagnaio, c'è la Misericordia di Pian Castagnaio, un'altra associazione che si chiama Jovesway che appunto ecco anche loro fanno passeggiate, camminate, l'amministrazione di Pian Castagnaio che noi ringraziamo tanto, ringraziamo supermercati simpli che insomma anche loro un po' hanno dato una mano e ecco e tanti altri soggetti diciamo che ci stanno aiutando anche singole persone insomma che amanti del settore che gli piace diciamo ecco questi tipi di sport all'aria aperta e poi la nostra organizzazione, i comitati AICS a livello provinciale insomma ecco che io ringrazio perché veramente insomma hanno contribuito a fare tanto. Siamo inseriti dentro la festa della famiglia e appunto è il secondo anno e noi appunto ecco ringraziamo soprattutto la parrocchia perché questa è una festa che è un'attività sportiva che è molto inserita all'interno del contesto comunale diciamo ecco di Pian Castagnaio cioè subito siamo riusciti diciamo con il tessuto sociale pianese a fare molte cose e organizzare questo evento e penso che prossimamente potremo potremo ecco organizzare anche altri tipi di attività perché il nostro obiettivo è aiutare a far conoscere questo tipo di territorio perché è bellissimo, ha una biodiversità che è spaventosamente bella, un bosco semplice, morbido e poi insomma secondo noi è un'occasione perché per trovare fresco e fare attività bisogna all'estate andare in altura e chiaramente sull'Italia centrale è un posto magnifico insomma ecco da veramente insomma da scoprire perché permette anche di fare e di preparare insomma poi la stagione invernale per tutti gli atleti